Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale A Fossombrone arrestato spacciatore ai tech Giardino o parcheggio per le auto? Il dibattito si infiamma Auto contro autobus, passeggeri bloccati e trasferiti su un altro mezzo Consiglio comunale caldo sulla sanità, i grillini annunciano la morte del Santa Croce con un minuto di silenzio La super luna riaccende il sogno antico dei fanesi, il super lisippo a Fanno Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Benvenuti cari telespettatori di Fanno TV a questo nuovo appuntamento con l'informazione, il telegiornale sul canale 17 Cominciamo dalla cronaca, andiamo a Fossombrone dove i carabinieri hanno arrestato uno spacciatore di droga Che contattava i suoi clienti attraverso internet Come piazza per vendere la droga aveva scelto quella virtuale anziché quella reale Ma i carabinieri di Fossombrone lo hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti I militari lo hanno scoperto dopo averlo fermato a bordo di un'auto per un controllo E trovato in possesso di 37 grammi di marijuana e 5 di cocaina Che l'uomo alla vista degli agenti ha tentato maldestramente di occultare sotto l'auto Manovra però che non è sfuggita ai militari che così hanno perquisito l'auto e ritrovato lo stupefacente Al mercato virtuale del 31enne gli inquirenti ci sono arrivati scavando nelle attività telematiche dell'uomo Attraverso i suoi supporti computer e telefonino Scoprendo che aveva in corso numerose trattative online per la vendita di droga Probabilmente la stessa trovata in suo possesso Ora il Forse Impronese è agli arresti domiciliari in attesa del processo che si terrà il 23 novembre prossimo Ora invece parliamo di quell'area dove fino a poco tempo fa c'era un distributore di carburante Siamo tornati a Fano Qualcuno vorrebbe ricostruirci un giardino così come era un tempo Molti però anche per la sua posizione strategica vicino al centro storico Qualcuno propone invece un parcheggio e il dibattito si infiamma Da più di un anno il distributore di carburanti in Viale Gramsci non c'è più E dopo una prima bonifica dell'area è stato steso un velo bianco su questa zona così centrale e così importante di Fano Il telo bianco non è stato steso solo sulla destinazione d'uso di quest'area pubblica Che per il momento non si intravede a brevissimo termine Ma anche materialmente recintando in maniera triste e rabberciata con un telo bianco Tutto attorno alla recinzione che lo delimita Regalando all'area così un'area triste e dismessa Molte idee e molte ipotesi vengono fatte un po' da tutti su cosa dovrebbe e cosa non dovrebbe essere fatto lì Compaiono anche vecchie foto datate di un tempo che fu in cui una bella fontana faceva da punto focale di splendidi giardini Ma forse era il tempo in cui giravano ancora i calessi per Fano Non il traffico caotico e convulso dei giorni nostri Allora che fare? Tre consiglieri comunali, Santorelli, Magrini e Del Vecchio Avanzano l'ipotesi di parcheggi e chiedono anche una mozione a riguardo in consiglio comunale Sull'area ex Agip abbiamo presentato una proposta perché è più di un anno che quell'area è ferma Bruttissima da vedere in mezzo a un intersicarsi di via molto trafficate A fianco c'è via Caburo, una zona commerciale e c'è la scuola E' da tempo che se ne discute e ora di prendere una decisione Noi abbiamo presentato una mozione proprio per dire facciamo una piccola fascia verde e il resto a parcheggi Che servono appunto alle attività commerciali ai cittadini che vogliono frequentare quelle zone Oltre che ad utilizzo della scuola, corridoni perché lo si vede benissimo che ai bimbi che vanno in quella scuola Quando si vanno a portare è pieno di macchine e non si riesce mai a parcheggiare e le troviamo ovunque Quindi una zona che sia ad utilizzo di un ampio quartiere All'interno di un progetto che peraltro abbiamo sentito dall'amministrazione comunale Vuol pedonalizzare via Caburo Quindi all'interno di questo progetto è strategico fare un parcheggio appunto in quella zona Non è possibile né pensabile pedonalizzare via Caburo senza trovare una soluzione a questo tema E come dire chiudiamo via Caburo, non facciamo in modo che i negozi chiudono Già peraltro mi risulta che due negozi siano già stati chiusi Quindi c'è un inizio di desertificazione commerciale di quella zona Ecco, questa proposta che noi facciamo che credo sia di buon senso L'amministrazione dovrebbe velocemente portarla avanti con un progetto Cercare di dare una scadenza, ha sbagliato a non dare una scadenza a Deni per fare la bonifica delle cisterne Deve dare una scadenza a Deni perché ha sufruito per tantissimi anni di quella zona Deve dare una scadenza a Deni e fare i lavori di bonifica subito Iniziare il progetto prima di pedonalizzare di costruzione dei parcheggi e dell'area verde Ecco, io questa mozione come progetto FAN UDC abbiamo presentato in consiglio comunale Mi auguro che su questo si possa aprire un dibattito serio, non demagogico Perché ripeto, altrimenti il rischio è danneggiare veramente la zona commerciale di via Cavour E non dare quel servizio che i cittadini è tanto che attendono e chiedono a noi amministratori E che cosa ne pensano le persone? Che cosa ne pensano i commercianti che lì hanno la loro attività? Vediamo Allora, parcheggio o giardino per voi? Qual è la soluzione ideale? Ma la soluzione ideale è il parcheggio, per aiutare anche i commercianti perché è una zona che sta morendo Stanno chiudendo negozi uno dietro l'altro, vedo più il parcheggio che tenere il verde Che ce n'è uno di là tenuto in degrado, se lo facciamo anche di qua sono due in degrado Se poi voglio mettere la fontana, si può fare anche la fontana Però il parcheggio per voi sarebbe l'ideale? Sarebbe l'ideale il parcheggio per noi, sì Assolutamente un parcheggio perché il centro storico ha bisogno di parcheggi limitrofi Per far venire gente in centro e dare questa possibilità E parcheggiare anche magari con disco rare oppure parchimetri a pagamento Quindi per le casse del comune potrebbe essere sempre una cosa positiva Allora, per voi che lavorate col pubblico, con l'utenza, qual è la soluzione ideale? Lì l'ideale sarebbe creare il parcheggio Creare un parcheggio perché è utile per il centro È utile oltre che per la via qui per tutto il centro E anche per la scuola, per il corridone Perché qui in Boccavur quei pochi parcheggi che ci sono vanno subito esauriti Sì, questi sono pochi, a pagamento sono pochi E quelli si riempiono subito la mattina quando già apri alle otto e mezza Nove, già sono tutti pieni Parcheggio e giardino, tutti e due Parcheggio, piante che tanto non guasta mai Le decorazioni sono sempre belle Allora, voi siete proprio adiacenti all'area in questione Parcheggio sì, parcheggio no? Parcheggio sì, assolutamente sì Siamo a favore del parcheggio Perché siamo vicino a un'area centrale Ci sono i negozi Sarebbe bello sì, un po' di verde, un po' un giardinetto Però è necessario un parcheggio Perché non abbiamo Sia noi che ragazze che lavoriamo Che anche chi deve andare in centro Fa fatica Lo spazio c'è anche per creare un piccolo spazio verde Si potrebbe fare tutte e due, volendo? Non so se si riesce onestamente Non so, bisognerebbe studiare la cosa per bene Però se si potesse, magari Il parcheggio sarebbe comunque l'idea? Sì, sicuramente Magari non a pagamento Così almeno abbiamo anche questa cosa in più Insomma, così ci agevola anche noi che dobbiamo lavorare Sarebbe l'ideale un bel parcheggio non a pagamento Siamo nei giardini adiacenti alle scuole Corridoni Ce ne siamo occupati più volte di questo spazio verde Anche stimolati e chiamati dai residenti Che hanno denunciato come essere questo Un luogo più che altro di aggregazione Di persone adulte e tutt'altro affacendate Poco frequentato da mamme e bambini questo spazio Dall'altra parte si vuole ricreare una situazione simile a questa O fare un luogo in cui si possa dare fiato al centro E quindi ai commercianti creando una situazione favorevole per questa Vediamo quale sarà lo sviluppo futuro di quell'area E già un giardino dunque c'è a pochi metri di distanza Insomma, il dibattito comunque è aperto C'è un consiglio comunale invece per chi ci segue Nell'edizione delle 20 e 30 che è appena iniziato Ed è un consiglio comunale piuttosto importante Perché si discute di sanità E lo sta seguendo per noi Lino Balestra Buonasera Lino Allora, dove ti trovi? Sì, allora sono qui con alle spalle la Memoteca La Mediateca Montanari Dove momentaneamente si tiene il consiglio comunale Perché i locali della sala consigliare Non sono agibili in questo momento per lavori di ristrutturazione Come un po' tutto il palazzo, la sede municipale In questo momento nella sala ipogea Si sta tenendo il consiglio monocratico sulla sanità Chiesto a gran voce dalla minoranza Dei consiglieri di minoranza ad ottobre scorso Se avanzerà tempo Loro andranno avanti in oltranza Fino alle 11, 11.30 Poi si parlerà anche di ASET Ma in questo momento si sta parlando di sanità Due le emozioni principali Quella del consigliere Del Vecchio, Santorelli E poi quella dei Fano a 5 Stelle Proprio sullo stesso argomento In questo momento poi tra l'altro sta parlando anche il PD Il primo a prendere la parola è stato Del Vecchio Che ha ripercorso un po' la strada Fatta sin qui E puntato il dito fortemente Su quel tanto vituperato algoritmo Che ha deciso per la sede di Fosso Seiore Dicendo chiaramente che se i passi elementari Citati in quell'algoritmo Fossero stati tutti rispettati Il sito migliore sarebbe stato quello di Chiaruccia Ma così non è stato C'è un grande mago, dice Del Vecchio Che tira fuori il coniglio dal cilindro E allora si è partiti Sempre secondo Del Vecchio Sue parole Non più dall'algoritmo Ma dal sito per arrivare all'algoritmo Questo è il percorso fatto E quindi a gran voce anche lui Ha chiesto al sindaco Massimo Seri Che cosa si vuole fare Per contrastare lo svuotamento Del Santa Croce E la sua definitiva chiusura Poi è stata la volta di Adaro Miccioli Ma su Adaro Miccioli Noi abbiamo registrato un'intervista Poco prima che si recasse giù nella sala ipogea Dove dice chiaramente quale sarà la sua linea E io pregherei la regia Di mandare l'intervista che abbiamo registrato Proprio con Adaro Miccioli Pochi minuti fa Siamo nella memoteca Dove nella sala ipogea Fra pochi minuti Prenderà il via il consiglio comunale Quasi monotematico possiamo dire Che verterà sulla questione sanità Vicino a me Adaro Miccioli Del Movimento 5 Stelle Che ha annunciato Oltre a portare come vediamo qui Sul bavaro della camicia Un bottone nero In segno di lutto Anche un minuto di silenzio Perché questa pièce Perché questa performance Diciamo questo è un segnale forte Che vogliamo dare Perché purtroppo Da quello che ormai si capisce bene Il Santa Croce si chiuderà Ci sarà praticamente il cosiddetto funerale Del nostro ospedale Vogliamo rimarcarlo ancora una volta Perché forse i cittadini Sono stati un po' sviati Dal teatrino Che un po' ha incinato anche il nostro sindaco Difendendo Chiaruccio Ma quello era solamente una foglia di fico Un modo per salvarsi la faccia Di fronte ai cittadini Quando i cittadini invece Devono sapere Che con l'ospedale unico L'ospedale di Fano Verrà chiuso totalmente O quasi Che rimarrà forse Una specie di poliambulatorio Probabilmente Quindi ecco Questo è un segnale molto forte Anche il minuto di silenzio Che noi faremo Durante il nostro intervento Sarà l'occasione Forse per ripensare Sarà un'occasione di riflessione Anche per tutti i consiglieri comunali Di fronte a quello che è accaduto Di chi sono le responsabilità Noi chiediamo ancora una volta Uno scatto d'orgoglio Da parte del sindaco Sappiamo che si andrà O a forse sei ore Con l'ospedale unico O dalle ultime notizie Addirittura verso muraglio Una sconfitta piena Da parte della nostra città La terza città delle marche Che merita di avere un ospedale Ma non solo Ma anche una riorganizzazione Dell'esistente D'altronde noi non difendiamo Solo il nostro ospedale Difendiamo un'idea di sanità Policentrica Cioè vale a dire Dove i presidi esistenti Vengono riorganizzati E potenziati Stile Emilia Romagna Proprio dove noi spesso andiamo Invece a curarci La classica mobilità Chiamata passiva Della sanità Quindi ecco Un'alternativa vogliamo darla A questo punto Non solo diciamo Un ricordo Di quel che fu Che è l'ospedale di Fano Probabilmente Anzi sicuramente Ma appunto Una nuova strategia Per far sì che La sanità locale Sia sempre più difesa Ecco Una nota Nella sala ipogia Si tiene il consiglio comunale Perché In questo momento Ci sono lavori Di ristrutturazione Nella sala consigliare Che non permettono L'accesso Quindi comunque sia Il consiglio si terrà Fra pochi istanti Proprio nella sala ipogea Della memo Bene quindi Questo era il pensiero Adaro Micioli Lui ha chiedito Chiaramente Che proporranno Un'alternativa Per evitare Questo svuotamento Questa scatola vuota Che si sta prestando A diventare Il Santa Croce Hanno fatto Questa dimostrazione Questo minuto Di silenzio E portato In sede comunale Il bottone nero In segno Di lutto Ora aspettano Che cosa Dica Seri A riguardo Qual è la sua risposta Qual è la sua Predisposizione Intanto Bacchiocchi Del PD Ha ribadito Nel suo intervento Che il Partito Democratico È E su questo Non si spostano Di un centimetro A favore Dell'ospedale unico Dall'ospedale unico Quindi loro non si spostano Adesso aspettiamo La risposta Del sindaco Massimo Seri Bene Dalla Memoteca È tutto Per questo consiglio monocratico Sulla sanità Restituisco la linea Allo studio Bene Grazie Alino Balestra Noi andiamo avanti Con l'intellegionale La cronaca Nel tardo pomeriggio Di oggi Una signora Ultra Ottantenne Residente A Fano A bordo Della sua utilitaria Mentre usciva Dal parcheggio Del foro Boario In via Gabrielli Non ha rispettato Il segnale di stop Almeno questa è la prima Ricostruzione E quindi è stato inevitabile Vedete l'urto Con un mezzo pubblico Che stava passando In quel momento Fortunatamente A bassa velocità Quindi solo danni Ai mezzi Nessuna conseguenza Per la donna E nemmeno per I passeggeri E l'autista Dell'autobus Sul posto È giunta anche La polizia locale Per i rilievi Di legge E per ordinare Un po' Il traffico Vista anche La posizione Dei mezzi E per un'ora Per una mezz'oretta Circa Si sono registrati Dei rallentamenti I passeggeri Poi sono stati Trasferiti Tutti Su un altro Mezzo Arrivato Poco dopo Presentata Questa mattina Siamo alla pagina Degli appuntamenti E degli eventi Presentata Dicevo Questa mattina Nell'ufficio Del IAT La 29esima Edizione Di Sapori Euromi D'autunno Sapori Ed aromi D'autunno La manifestazione Con le 3T Territorio Tipicità Tradizioni E quest'anno Ahimè purtroppo Ne hanno dovuto Aggiungere un'altra Terremoto Ed in particolare La zona di Arquata Del Tronto E i suoi abitanti Da subito Aiutati dai volontari Fanesi Stabilendo un ponte Di aiuti Che è tuttora In essere L'aspetto solidale È nel DNA Di questa manifestazione Che nacque appunto Tanti anni fa Per aiutare Chi era in forte difficoltà E non si è mai perso A maggior ragione In presenza Di eventi così drammatici Come un terremoto E dato che di territorio Si parla E di prodotti Marchigiani Lo sguardo a loro È venuto spontaneo Abbiamo pensato Di una sorta Di realizzare Una sorta di gemellaggio Con Arquata Arquata del Tronto Anzi Per trarre Che il paese La frazione Di Arquata Dove i nostri volontari Sono stati Operativi Ecco Di creare Di realizzare Questo gemellaggio Per aiutare Queste popolazioni Con una raccolta fondi E per promuovere Anche i loro prodotti Tanto è vero Che in questa manifestazione In questa 29esima edizione Di Sopore Romeo d'Otunno Saranno presenti I volontari Della Proloco Di Arquata Con le loro castagne Che le sommistreranno Nelle due domeniche E ci sarà poi Quella sorta Di promozione Purtroppo Sono soltanto In due I produttori Che si sono fatti avanti Perché con la seconda scossa Quella di ottobre Hanno perso Anche quello Che avevano salvato I produttori Diciamo Di prodotti E neogastronomici Abbiamo Avuto questa idea Di invitare Gratuitamente I produttori Locali di Arquata Alla nostra manifestazione Per queste due domeniche Speriamo Che il nostro contributo Piccolo che sia Per i produttori Però Possa essere Simbolicamente E anche psicologicamente Un aiuto Alla rinascita I punti cardine Della manifestazione Che il 20 Il 27 novembre Occuperà Gli spazi del Cod Ma non mancheranno Sono due giornate Da bere tutto D'unfiato Anzi da degustare Perché oltre che Ai prodotti Alle eccellenze Agroalimentari Tanti sono Gli appuntamenti Come l'oro delle marche Con l'associazione Olea Eventi e mostre Come quella fotografica Proprio su cosa È accaduto Tra i vicoli Di Arquata del Tronto Il 24 di agosto Abbiamo voluto Veramente Contribuire In maniera massiccia A dare una mano Agli amici Di Arquata del Tronto E la dico per primo Almeno La gente lo sa I visitatori Potranno venire A degustare Le lasagne Che verranno Cucinate Dal ristorante Montecucco Di San Giorgio Per raccogliere fondi Per gli amici Di Arquata Del Tronto In generale Sarà la mostra Mercato Dei prodotti Dove comunque Anche in un'annata Come questa Troveremo Ottimi oli Estrevergine Di oliva Tra tutti gli altri Prodotti Che sono presenti Nella manifestazione Dei salumi Ai formaggi Al miele Al miele Alle verdure Del territorio La frutta E la verdura Del territorio Quindi Sarà Come il solito Un ambiente Dove Le persone I visitatori Che verranno Potranno Sbizzarrirsi Nelle tre ore Di iniziativa E fare I loro acquisti Per Per la propria Famiglia Si è conclusa Con un grande Successo di pubblico La 51esima edizione Della fiera Di Acqualagna La fiera Nazionale Del tartufo Bianco Che ha fatto segnare Un pienone Pienone di affluenza Complice anche Una bella giornata Gente Da diverse parti D'Italia Hanno affollato Piazza Mattei Del Palazzo del Gusto Dove Espositori Regionali E non Hanno portato Le loro tipicità I prodotti tipici Le battezze Alimentari Che si sposano Con il re Della terra Il tartufo E Al centro congressi Invece Del Tag Hotel Di Fano Si è tenuto Un importante Convegno Meeting Medico Dove si è Parlato Di Uro Oncologia Protagonisti Tutti gli operatori Dei medici Dell'azienda ospedaliera Marche North Due giornate intense Di lavori Per porre l'attenzione Sulla complessità Degli interventi Diagnostici Di cura In ambito Uro Oncologico Che possono portare A condizioni Di eccessiva variabilità Delle procedure Cosa che facilita Lo scostamento Dalle linee guida Internazionali In ambito Oncologico Siamo qui A parlare Di tumori Urologici Tumori Della prostata Tumori Della vescica E tumori Del rene Parliamo Di tre patologie Che occupano Una top ten Oncologica Con Possibilità Nuove Dal punto di vista Della diagnosi E della terapia L'incontro Di ieri E di oggi Ha l'obiettivo Di mettere a fuoco Argomenti Importanti E portando Alla conoscenza Di tutti Le novità Che riguardano Sia l'aspetto Della diagnostica Con nuove tecniche Che ci permettono Di raffinare E potenziare Le capacità diagnostiche Ma anche nuove Terapie Sia di tipo chirurgico Che di tipo medico Per tutte e tre Le patologie Oncologiche Di questo Si è parlato Nel meeting Che si è tenuto Al Tagotel Di Fano Dove i professionisti Di Marche Nord Hanno voluto richiamare L'attenzione Delle istituzioni E dei professionisti Della salute Su questi aspetti Organizzativi Ed esecutivi Che permettono Di conciliare Efficienza Efficacia E sostenibilità Di un trattamento E della gestione Più appropriata Del paziente Ci troviamo Nuovamente qui Diversi professionisti Perché Io insisto Sempre Sulla multidisciplinarità Per affrontare Questo tipo di malattie La multidisciplinarità È diventato Un fatto fondamentale Noi per combattere Queste malattie Per curare i nostri pazienti Abbiamo bisogno Di lavorare insieme In questi ultimi tempi Poi sia Il progresso Della medicina Con farmaci nuovi Sia il progresso Della radioterapia Abbiamo delle tecniche Speciali Abbiamo delle possibilità Di fare tantissimo Di dare tantissimo Ai nostri pazienti Ecco Trovarci insieme Parlare insieme Aggiornarsi E fare il bene Dei nostri pazienti Prendere in carico Il nostro paziente E fondamentale Per me Non far correre Il paziente Fra i diversi professionisti Ma siamo noi Che stiamo Attorno Al nostro paziente Siamo al quarto Mitigli Uro-oncologico Il terzo L'abbiamo fatto Due anni fa E come mai Rivedersi Dopo due anni Perché in questi due anni Notevoli Sono stati successi Nell'ambito Dell'oncologia Oncologica Urologica C'è stato l'avvento Di nuovi farmaci Di nuove possibilità Terapeutiche Abbiamo condiviso Dei progressi Nella diagnosi Per cui ci ritroviamo A ridiscutere Assieme a quelli Che abbiamo invitato Che sono un po' Gli opinion leader Italiani Quello che è lo standard Per la cura Di queste malattie Malattie molto importanti Da un punto di vista Epidemiologico Il tumore della prostata È il tumore più frequente Nella popolazione maschile È una patologia Che grazie all'ausilio Dei nuovi farmaci Ha visto anche una Modificazione Della storia naturale Soprattutto nelle fasi Più avanzate Della malattia Adesso riusciamo A curare sempre di più E a guarire sempre di più Dando sempre Una buona qualità Della vita A tutti i nostri pazienti Allora prima di salutarci C'è una notizia Che ha battuto L'agenzia a dire A proposito Della sanità E che riferisce Sabato Sabato prossimo Ci sarà il secondo round Di sindaci Dell'area vasta Sull'ospedale unico Però è un incontro Che si terrà A porte chiuse Sabato 19 novembre La conferenza Dei sindaci Di area vasta 1 All'ordine del giorno La riforma sanitaria Delle aree interne E l'individuazione Del sito Per realizzare L'ospedale unico Marche Nord Sarà presente anche Il governatore Il presidente Della regione Marche Luca Ceriscioli Soprattutto per spiegare Come intende Organizzare I piccoli ospedali Dell'entroterra Ci salutiamo però adesso Con Quest'altro scatto Un altro scatto Lo vediamo subito La super luna Che ci ha regalato ieri Guardate che splendore Ha regalato ai fanesi Un momento davvero emozionante Che naturalmente Ci auguriamo Possa essere anche Di buon auspicio Per la città di Fano Durante lo spettacolo Naturale della super luna Aspettando il momento giusto E cercando la posizione adatta Lo scatto del fotografo È riuscito a immortalare La silhouette Dell'Isippo Che si trova Lungo la passeggiata Omonima al porto di Fano Anche se si tratta Della copia Dell'atleta vittorioso Per un po' Ci piace immaginare Che quella nella foto Sia la statua originale Cioè quella pescata A largo di Fano Nel lontano 1964 E conservata nel museo Di Malibu Negli Stati Uniti Dove apparve Per la prima volta Nel 1974 Pensate Quella straordinaria Opera d'arte Fu pagata Secondo alcuni 3 milioni 900 mila dollari E adesso Speriamo Questa luna Questa grande luna Questa super luna Ci possa portare Di nuovo fortuna Ci possa portare Fortuna E possa ridarci Questa opera Magari anche solo Per un po' Qui nella nostra città Dove tanti anni fa Più di 40 anni fa Fu pescata Dai nostri marinai Occhio alla notizia Finisce qui Grazie per averci seguito A tutti voi L'augurio di una buona serata Arrivederci Grazie a tutti